benvenuti in questo nuovissimo video oggi veramente un gioco clamoroso un gioco totalmente gratis e bene sì se avete sentito bene un gioco ragazzi nft totalmente gratuito in cui già potete guadagnare questa criptoneta in modo totalmente gratis non investendo nulla quindi solo gratis ragazzi quindi meglio di così non si può mi raccomando ragazzi se volete altri video del genere lasciate un like iscrizione attivata campagna per supportare il video ragazzi mi raccomando la criptoneta in questione che andiamo esattamente a prendere totalmente gratuita si chiama crypto royale di questo fantastico gioco veramente da pochissimo tempo che attivo attualmente vale 8 centesimi quasi a criptoneta 7 centesimi e sul valore ragazzi potrebbe veramente schizzare le stelle nel corso del tempo quindi attualmente ragazzi nata esattamente dal 22 novembre questo gioco la loro criptoneta valeva esattamente 2 centesimi è schizzata alle stelle verso il 28 dicembre a 14 centesimi quasi doppio ora ovviamente il mercato sta facendo un po schifo il mercato ragazzi si sta riassestando speriamo che questa criptoneta sarà da altissimo potenziale nel corso del tempo quindi non prendete tanto questo dato oggi perché è basso secondo me ma prendetelo nel futuro quindi criptoneta gratis ad altissimo potenziale solamente giocando e divertendoci attraverso questo semplice gioco allora facciamo tutti i passaggi fondamentali per guadagnare trovate tutti i link in descrizioni che vi servono attraverso il canale youtube e tutto il resto allora il canale youtube quindi iscrizione se no entrate sul nostro canale telegram sempre link in descrizione ma ragazzi il gioco è questo ed è molto semplice il sito si chiama crypto royale punto on è un gioco nft basato sulle battaglie royale che veramente tanta tanta roba pronto a guadagnare attraverso le cripto è un free to play quindi assolutamente gratis senza investire in cui puoi giocare gli nft totalmente gratis in cui puoi mettere in rendita i vostri cripto real che fare una pia e 79 per cento quindi oltre a guadagnare gratis se puoi investire e fare staking in modo gratuito con il vostro investimento ricordo ragazzi per chi non sapesse qual è lo staking lo staking praticamente metti a farmare metti a rifarmare a rifare soldi in modo gratis e fai il 79 per cento di api cosa sarebbe la piai con l'interesse composto quindi mi fa il 79 per cento annuale con l'interesse composto detto questo ragazzi questa formazione non perdiamo altro tempo questo si vince attraverso questo è il tutorial come si vince questo è il discord eccetera eccetera allora passaggio fondamentale per la vittoria primo passaggio per capire ci sono tre colori ci dicono quindi giallo giallo che colore è verde no è un cazzo azzurro non è biona poi praticamente deve restare in questa bolla e uccidere gli avversari ci sono gli hp di mezzo poi praticamente deve stare attenti ai colori il non viene di l'azzurro sconfigge viola e viola sconfigge giallo e giallo sconfigge oggi non c'è poco colore dunque il giallo sconfigge con l'azzurro ok il vincitore che collisiona la cosa giusta vince il 50 per cento di hp e quello ne perde il 25 per cento molto semplice dunque andiamo a vedere allora come iniziare a giocare hai dentro questa piattaforma e voglio iniziare a giocare semplicemente vado su riproduci ora ok io l'ho tradotto in italiano lo ritraduciamo così almeno avete anche voi in inglese in inglese ragazzi avete questa opportunità prima è la cosa più fondamentale per giocare ma lo andiamo a vedere dopo la seconda ragazzi sulle skin potete comprare le skin attraverso i vostri roi attualmente giocando solamente per 3 minuti l'ho provato ho accumulato 0.13 roi ragazzi che non sono niente male in 3 minuti guardate bene un roi equivale a 8 centesimi se giocate tanto siete bravi potete accumulare una cripto moneta ad altissimo potenziale qui comunque ragazzi potete avere la vostra cripto e comprarla ai coi roi accumulati quindi voglio comprare cherry buy e lo prendo ragazzi costa 2940 euro e ovviamente a farlo in maniera gratis che ve ne frega nella terza opzione ragazzi c'è reparto staking quindi posso mettere stegni in vostri soldi e guadagnare lo andiamo a vedere dopo la quarta opzione ci sono le skin nella dove siamo eccolo qua nella seconda no nella seconda azione c'è le skin nella terza opzione ragazzi c'è esattamente come guadagnare attraverso lo staking attraverso il tutto non ve lo sto a vedere oggi c'è l'eye drop tutto il resto non ci interessa tanto nella quarta opzione c'è il torneo ci sono i tornei più grossi per guadagnare molto di più oggi andiamo a vedere solamente con guadagnare semplicemente se vi piace questo video faremo un altro video lasciate un bel like e scrivete commenti porta un altro video così per vedere meglio ci sono tutte le domande discord eccetera comunque molto semplicemente ragazzi play now quindi io inizio devo avere questa piattaforma qua quindi io inizio clicco su play now semplicemente ci sono quattro modi di fare il primo modo ragazzi è gratuito quello gratis e praticamente ti fa solamente non guadagnate nulla ma vi fa esercitare il secondo modo è la ranked che ti fa guadagnare gratis solamente giocando il quarto modo ragazzi se volete scommettere i vostri roi e potete guadagnare di più attraverso il like scommetto 10 roi e se vinco guadagno molto di più attraverso la ruota e se faccio questo lobe spendo un roi e metto i stake e tutto il resto qui gioco qua ragazzi e lotto con quelli che hanno un roi ragazzi ovviamente dovete depositare almeno con un roi e dovete accumulare e guadagnare di più ok se uno ne guadagni vuole scommettere scommetto un roi comunque io inizio ora voglio farlo assolutamente gratis quindi trading vado qua e mi esercito praticamente faccio play e sono a posto invece se vuoi fare il ranking ragazzi sempre in modo gratuito faccio il ranking nel ranking guadagni quindi io sono nel ranking ragazzi ho attualmente questo sono tutti i portafogli questa è la spin se vuoi fare la spin lo vedete ogni spin che fate ragazzi potete vincere da 0.22 fino a 21 roi se avete fortuna quindi tanta tanta roba questo ragazzi sono tutte regole ufficiali come ci sono nell'inglese questo è il modo di giocare questo è discord per guadagnare il 10% in più quindi unitevi a discord ragazzi che guadagnate il 10% in più autorizzate ragazzi il vostro discord e guadagnate un sacco di soldi in più vedete questo qui il 10% non è per niente male a ogni vittoria quindi entrate con discord l'ho fatta anche ora questo è l'achievement e la dashboard per quando giocare allora i soldi che fate li avete direttamente sul vostro wallet principale quindi questo è il mio soldi che ho accumulato in 3 minuti non sto scherzando sono 0.12 roi in 3 minuti questo ragazzi è il bonus che vi ricordo ogni bonus vi da in più ho fatto 10 bonus il bonus di discord io prima facevo l'1% in x di bonus ora attraverso discord faccio l'1.x per cento quindi tanta roba in più se metto i sti che ne compro fai 200% e più questo è quanto ok vuoi iniziare a giocare semplicemente ragazzi faccio play faccio play aspetto i detentori del gioco aspetto i giocatori e comincio a giocare e devo rimanere praticamente l'ultimo io sono questa palla qua i giocatori di solito sono 3 e praticamente devo prendere accumulare questi stelline qua ragazzi più accumulo queste stelline come le chiamate questi cosini qua diamantini e più che mi danno hp molto semplicemente e io lo vedete questa aura mi muovo col mouse attualmente io muovo col mouse la freccetta mi muove qui ragazzi potete spostarvi e prendere anche i vostri soldi qua e devo rimanere all'interno di questa aura questa qui questo mondo che si sta piano piano se io rimango ultimo e vinco ragazzi i miei soldini e arrivo per ultimo vinco i miei soldi molto semplicemente molto easy però devo stare attento che questo qui ovviamente è un bastardone devo stare attento ragazzi ho perso ai colori quello lì io praticamente non potevo ucciderlo perché praticamente potevo solamente difendermi che quello di ragazze del colore che non potevo uccidere lo vedete che il colore è a puntini ok questo lui ha vinto 22 eroi cioè 0.22 tanto rovo rifaccio play e rigioco illimitato ragazzi così riproviamo per fare un combattimento speriamo che l'ha vinto così vedete non sono molto bravo ragazzi comunque io mi muovo col mouse più spingo il mouse lo vedete che i miei hp diminuiscono vedete 75 hp ora c'è 260 praticamente le stelline vanno con gli hp però più piccio il pulsante più piccio il pulsante e più che ragazzi che praticamente ce lo lasciano nel culino ecco quindi piccio il pulsante aspetto questo qui praticamente aspetto ragazzi che mi finiscano così tipo lui ora se mi attacca più a un sacco di cose perché mi fa del male parecchio quindi devo aspettare il momento stesso in cui mi attacca c'è la mia stessa in cui cambia colore ma non sta cambiando nella madonna ecco forse c'è la po dai no non ci posso credere ho perso ho perso l'ultimo comunque ragazzi dovete arrivare primo arrivate primo e vincere il monos non ce la faccio a farmi vedere sto perdendo di brutto adanna mi incazzo con questo gioco vera mi facciamo play l'ultima ragazzi mi sto fogando perché divertente devi rimanere l'ultimo e vinci con la ruota a differenza dei roi ok l'ultima ragazzi l'ultimo lo prometto so che il video diventa lungo ma mi piace allora riproviamo ci sono 4 giocatori invece che 3 siamo nella cacca non mi ricordo mai colori qual è il colore giusto per appunto cosare questo guarda questo qua questi sono fogati ragazzi guarda questo non ce la farò mai troppo forte questo qui è forte uno deve rischiare anche andare qui sotto è un casino è un casino dai ce la posso fare devo rimanere io sono più uno strada comunque devi rimanere ragazzi devi vincere questo se non mi chiappa sono nella cacca infatti come sempre ma perché non mi dico una niente ragazzi ho vinto 0.6 eroi sono arrivato al secondo perché erano 4 giocatori vediamo questa volta ho vinto perché erano 4 giocatori vediamo un po' eccolo qua ho vinto ragazzi qualcosa ho vinto se siete più 4 giocatori in su vincete anche se è arrivato al secondo lo vedete il mio 0.12 eroi sono arrivati 0.18 è accumulato 0.6 eroi questo è quanto ragazzi giocate massimo sono 5 player giocate e vincete una volta fatto questo dovete avere o metamask cioè dovete avere per forza metamask ragazzi metamask come fare al ritiro metamask ragazzi esplicite cliccate metamask su google lo scaricate metamask fate download e mettete da password che siete dentro una volta che avete metamask ragazzi dovete andare semplicemente ad entrare con metamask con metamask prima cosa da fare per ritirare i vostri soldi quindi potete ritirare con primo un ROI 8 centesimi andare nella sezione crypto real su coinjeko basta semplicemente ragazzi fate add to metamask e raggiunge automaticamente sul portafoglio ok fate aggiungi token quindi cliccate sul metamask qua aggiungi token e me lo aggiunge automatico se no copiate e incollate l'indirizzo che trovate su crypto real è la stessa cosa andate su metamask ragazzi sezione import token qui in basso copiate e incollate il contratto e ve lo aggiungete automaticamente secondo passaggio fondamentale è mettere la rete giusta la rete giusta ragazzi la mettete esattamente attraverso la rete mainnet quindi dovete avere rete mainnet questa qua su metamask harmony mainnet che è la rete ragazzi di harmony ok per averla semplicemente scrivete su google come aggiungere rete poligone no poligone rete ehm mainnet l'ho scritto malissimo ehm harmony no dovete scrivere come aggiungere rete harmony a metamask ok harmony dovete scrivere no? vogliate ovvio come aggiungere rete harmony a metamask vi chiederà ragazzi la prima pagina tipo cliccate la prima pagina e andate a scorrere qui in basso e ci sarà ragazzi non è questo neanche questo non me la trovo comunque come aggiungere rete a metamask ragazzi ehm se ve lo fate con metamask aggiungere oh eccolo qua ethereum eccolo qua ehm cliccate il secondo link ragazzi quindi questo qua aggiungete questa rete se non lo fate direttamente con metamask lo fate direttamente qua quindi aggiungo a video metamask vi aggiunge anche la rete se lo volete farlo direttamente qua dovete andare nella sezione metamask sezione aggiungirete che lo trovate qui in alto a destra qui poi fate aggiungirete e dovete copiare e incollare direttamente qua questo che c'è scritto qua harmony mainnet identico fate safe le avete aggiunte una volta fatto questo vado nel mio wallet del gioco vado a cliccare qua ragazzi posso decidere di depositare ovviamente è gratis perché dovete depositare posso decidere guardate questo qua quanta presa 68 ROI mamma mia infortunato posso decidere di depositare che ovviamente gratis è meglio posso decidere di mettere staking le mie cose e fare il 79% quindi metto la firma e metto staking e posso decidere appunto di ritirare i soldi vado alla sezione withdrawl ci dice che alla sezione withdrawl posso ritirare con un minimo di un ROI ogni ora quindi se giocate tanto potete ricevere accumulate questi cripto net in modo gratis e ritirate fate withdrawl e nel portafoglio vi diranno dentro il portafoglio qua vi diranno esattamente su questa cripto meta quindi andate su Harmony e trovate ROI e qui ragazzi se avete un ROI da withdrawl da lì va direttamente qua e qua ragazzi potete esattamente scambiarla attraverso pancake no attraverso attualmente questo Beaver Swap andate su Weaver Swap se vi farò un tutorial apposta e scambiate questa cripto iscrivetelo se volete un tutorial di come scambiarla e fare soldini ok o se non dovrebbe essere scambiato anche su Metamask su come si chiama su Pancake ma non ne sono sicuro poi vediamo grazie a me di seguito spero che il video vi è piaciuto veramente un ottimo gioco per guadagnare assolutamente gratis e lo vedete in maniera gratuita la vostra cripto neta ad altissimo potenziale ciao e ci becchiamo alla prossima ciao ciao